Dopo il terribile incendio di ieri che ha distrutto l'affilatura di Gaglianico, l'ARPA rassicura che l'Eternit presente sul tetto non recherà danni. È braccio di ferro tra PDL e Lega Nord sul taglio ai costi della politica. PDL e Lega Nord sulla stessa linea a Berbiella non percossato. L'Unione dei Comuni della Valle Elvo è ai nastri di partenza. Entro fine marzo la Regione Piemonte darà il via libera al nuovo ente. Gli alpini biellesi rinnovano il direttivo e si preparano all'adunata nazionale in programma a Piacenza i prossimi 10 e 11 maggio. Gremita la Basilica di San Sebastiano per il concerto che ha proposto le musiche di Verdi in occasione del bicentenario della morte. Buongiorno a tutti e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Dopo il terribile incendio di ieri che ha devastato l'affilatura a maggio di Gaglianico, probabilmente causato da un corto circuito, si teme per i danni che possono derivare dall'Eternit, ma l'ARPA rassicura che non c'è pericolo, i particolari nel servizio. L'incendio che ieri ha devastato la filatura a maggio di Gaglianico è stato definitivamente domato. L'ARPA è intervenuta ancora questa mattina per verificare la situazione, vista la nube nera che ieri ha spaventato la zona e soprattutto per la copertura di Ethernet. Già ieri i tecnici ARPA si sono recati sul posto nei momenti cruciali dell'evento per verificare la quantità di acino cianidrico sviluppato, in quanto all'interno del fabbricato erano conservati filati di recupero di scarto da cotone, lana e cashmere e la combustione ha fatto sprigionare la nube nera contenente la sostanza altamente tossica. Fortunatamente i valori sono sempre rimasti al di sotto della soglia di rischio, come affermato da Bruno Barbera, dirigente responsabile dell'ARPA di Biella, più delicata nel momento del posto incendio alla situazione dell'Ethernet. Infatti questo materiale diviene pericoloso nel momento in cui vengono disperse le fibre, come durante un incendio. Ieri, durante le fiamme, non vi è stato pericolo perché è stato raffreddato e tenuto umido e deve essere mantenuto tale fino alla rimozione del rivestimento. In alternativa, può essere coperto prima di esportarlo, ma non in questi giorni. Infatti l'ambiente è ancora molto caldo e quindi vi sarebbe forte rischio che qualsiasi copertura andasse sciolta. Ed è braccio di ferro tra PDL e Lega Nord sul taglio ai costi della politica. I due partiti sono sulla stessa linea per i tagli degli assessori al comune di Biella. Il carroccio dice no invece per Cossato. La linea uscita dal direttivo provinciale è chiara. A Biella si dovrà aggiungere a 6 assessori mentre a Cossato 4. Questo è quanto emerso dall'incontro del PDL che si è svolto ieri sera a porte chiuse per cercare di fare il punto sulla situazione politica locale dopo lo tsunami elettorale della scorsa settimana. Sul tavolo i tagli dei costi della politica che sull'onda lunga del grillismo ormai dilagante stanno interessando tutti i partiti politici in modo trasversale. Per quanto riguarda il capoluogo la giunta dovrebbe passare da 10 a 6 assessori in linea con quanto dice la spending review dalla prossima amministrazione. A rimetterci potrebbero essere uno del PDL, due di Fratelli d'Italia e uno della Lega Nord. A Cossato invece si passerebbe da 7 a 4 come prevede sempre la legge sulla spending review. Uno del PDL e due della Lega visto che il sindaco è del carroccio. Questa è la linea del PDL alla quale hanno replicato i segretari degli altri partiti. Michele Mosca, numero uno della Lega, ha affermato Per Biella sono d'accordo, per Cossato no. Ripeto, nella seconda città del biellese gli assessori prendono meno di 500 euro al mese e lavorano 12 ore al giorno. Il PDL incomincia a togliere il suo assessore. Noi non lo rimpiazzeremo e poi vedremo. Andrea Del Mastro, coordinatore di Fratelli d'Italia, è lapidario. Dal PDL non ha ancora sentito nessuno. Questo è un discorso che necessita calma e obiettività. Il tutto comunque rimandato giovedì sera, quando in città giungerà da Roma il senatore del PDL, Gilberto Picchetto, il quale in qualche modo detterà linee precise. E intanto giungono novità dal fronte di Fratelli d'Italia, mentre in Regione Piemonte gli esponenti del partito si staccano dal PDL e danno vita un gruppo a parte. A Palazzo Roppa al momento la situazione rimane stagna. Per creare un gruppo infatti necessitano tre consiglieri. Al momento il movimento di Guido Crosetto e Giorgio Meloni ne contano solo due. E sull'argomento giunge un commento da parte di Antonio Montoro, consigliere di maggioranza a Palazzo Roppa e da sempre favorevole al taglio ai costi della politica. Auspico che il centrodestra, tutto, sappia in questi mesi riconquistare quei consiglieri che hanno dato il loro consistente apporto e che, grazie ai loro voti, hanno dato un contributo fondamentale alla vittoria della coalizione nel nostro territorio. Se tutto questo non avverrà e le capacità delle persone elette verranno nuovamente violentate dalle logiche di partito, ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. Cambiamo argomento. Ammontano un milione e mezzo di euro i fondi necessari per la ristrutturazione totale della cestovia di Europa. Dopo il forfè della provincia, l'unica speranza di sopravvivenza della struttura, rimane la promessa di 500 mila euro dalla regione. Un milione e 500 mila euro. Questo in denaro quanto necessita per la ricostruzione della cestovia che dal lago del Mucrone porta in cima al Monte Camino. Se non vi sarà quest'opera di ristrutturazione straordinaria, l'impianto verrà chiuso per sempre e smantellato. Il progetto è già stato approvato e l'appalto è già stato affidato a un'azienda, ma il problema è che i lavori non potranno iniziare fino a quando non saranno varati i fondi da parte dei soci della Fondazione Funi via Europa e il denaro promesso dalla regione, che rappresenta un terzo della cifra preventivata per i lavori. Il problema vero e proprio viene dal 22% di quota della provincia di Biella, che vista la delicata situazione di commissariamento del lente, non può versare un euro per la Fondazione. Quindi la speranza della sopravvivenza della storica cestovia biellese è tutta nelle mani della previsione di bilancio della regione Piemonte, prevista per il prossimo 31 marzo e che prevede 500 mila euro destinati all'impianto. e degli altri soci, il Comune di Biella, che è il 47% delle quote e della spesa, la Fondazione Cassa di Risparmio con il 14% e la Camera di Commercio con il 17%. I tre soci rimanenti dovranno dividersi le quote di finanziamento della provincia di Biella. Il problema è che se non arrivassero i fondi dalla regione, il progetto non potrebbe andare avanti, perché i soci non possono permettersi una spesa così esosa. Fiducioso il presidente delle Fondi via Europa, Gianni Dadano. Siamo fiduciosi perché è da sette mesi che trattiamo la situazione con la regione. Se dovessimo chiudere sarebbe un danno enorme per il territorio, non solo per le 15 mila presenze annuali, ma per trattare anche eventi e attività sul territorio con altri enti. Inoltre, oltre al danno ci sarebbe la beffa. Infatti, se chiudesse la cesto via, saremmo obbligati per legge a smantellarla e per compiere quest'opera sarebbero necessari almeno 500 mila euro. E l'unione dei comuni della Valle Elvo è in assi di partenza. Entro fine marzo dovrebbe giungere il nulla osta da parte della regione Piemonte. Siamo in tempi di spending review, siamo in tempi di austorità per quanto riguarda il taglio della politica e degli enti pubblici. Il provvedimento infatti varato dal governo Monti prevede, tra le altre cose, anche una riduzione e l'eliminazione piano piano delle comunità montane. Un progetto questo avallato anche dalla regione Piemonte, passato poi alle province, i singoli comuni. Per quanto riguarda il biellese, le tre comunità montane principali del biellese orientale, della Valle Cerve e della Valle Elvo stanno proprio in questi giorni ultimando l'iter burocratico per poi spedire il tutto in regione. Bene, oggi ci troviamo a Mongrando, alle mie spalle come potete vedere il comune della Valle Elvo, in cui ormai è tutto pronto per dare il via all'unione dei comuni montani. Il nuovo ente infatti che si verrà a creare in seguito proprio allo scioglimento della comunità montana. Entro la fine di marzo la giunta regionale formalizzerà l'unione ed entro poche settimane tutti i sindaci dei comuni si riuniranno per eleggere il direttivo e il presidente. Quindi questione proprio di qualche settimana, forse un mese, un mese e mezzo massimo. Infatti a differenza di quanto accadeva col precedente ente in cui tutti i consiglieri delle singole amministrazioni facevano parte del consiglio direttive, con l'unione dei comuni solo i sindaci siederanno nel parlamentino e col nuovo ordinamento cambieranno inoltre alcune deleghe e forme di finanziamento. Ma non ci sarà alcuna variazione per quel che riguarda l'erogazione dei contributi. Sindaco di Mongrano, Gino Fussotto, quali vantaggi avrebbero i cittadini della Valle Elvo con quest'unione? Io penso che bisogna cambiare il modo di gestire in quanto con le ristrettezze necessarie che ci sono bisogna cominciare a capire che bisognerà mettersi assieme per fare i progetti. Questo non nego che c'è parecchia difficoltà perché ognuno, ogni comune adesso era impostato in una certa maniera che in qualche modo riusciva a sopperire un po' da uno, un po' dall'altro, riusciva a fare cose. Però naturalmente non guardando i costi perché se noi vogliamo ridurre i costi e avere degli uffici in qualche modo che funzionano, io faccio l'esempio, il mio ufficio tecnico, ho due persone tecniche in cui abbiamo tutte le commissioni necessarie per mandare avanti qualsiasi tipo di progetto, però per esempio io posso capire Sala che non ce l'ha, posso capire Zubiena che in parte ce l'ha, posso capire Donato che non ce l'ha, quindi secondo me si potrebbe unificare tutti questi servizi, però ci vuole la buona volontà di tutti per fare questo sicuramente. Ecco, un'indiscrezione, quale potrebbe essere il capoluogo di quest'unione? Ma il capoluogo dell'unione, allora, siccome adesso l'abbiamo fatto già una bella cosa, siccome qua noi siamo capo comp come Mongrando, tutti i comuni dell'unione fino adesso, anzi e in più si è messo anche Cerione che fa parte del comp 4, e stiamo facendo la convenzione fra tutti i 16 comuni, quindi questo è già un esempio di come dovrebbe poi funzionare l'unione di comuni. Ed è importante perché la protezione civile è una di quelle funzioni in cui i comuni, piccoli comuni inferiori ai 1000 abitanti, entro il 31-12 del 2012 dovevano già avere, quindi noi l'abbiamo messo in regola, accettando di fare tutta questa convenzione di tutti i comuni assieme. E questo naturalmente sarà capofida, sarà Mongrando perché in quanto è essere con 4 e poi si vedrà. Parliamo di sanità. Nel 2012 la Slibiella ha risparmiato il 3% sui costi di gestione e di acquisto di beni e servizi, un taglio che rispecchia a grosso modo i paletti imposti dalla Spending Review. La legge nazionale sulla Spending Review ha consentito un abbattimento dei costi del 5% sulla sanità piemontese. Il dato rispecchia a grosso modo la realtà della sanità billese, visto che l'ASL di Biella ha effettuato un taglio di circa il 3% nell'anno scorso, per quanto riguarda l'acquisto di beni e di servizi. Il dato emerge a seguito dell'incontro che le federazioni sanitarie hanno svolto a Torino. L'ASL Laniera si è allineata con l'attività di rinegoziazione della federazione Nord-Est. Le 5 aziende socio-regionali afferenti a questa federazione pagavano per un certo prodotto, a volte proveniente anche dallo stesso fornitore, 5 prezzi differenti, con la rinegoziazione portata a fattor comune ha consentito di rialineare tutti i prezzi a quello minore. Le federazioni, parlando oggi di acquisti, domani di sistemi, di logistica, vivono con la missione di ottimizzare queste attività messe a fattor comune. La ragion d'essere non una delle tante cose di cui giustamente i direttori generali di un ASL devono occuparsi, ha spiegato l'assessore regionale alla sanità, Paolo Monferino. E in materia di trasporti, ennesimi disagi ieri per chi viaggiava sui treni biellesi. A Santià il minuetto per Biella, pronto al binario 5, non è partito. Gli utenti hanno atteso più di mezz'ora sul treno fermo, per poi sentire l'annuncio che la corsa non sarebbe partita. I passeggeri sono dunque scesi e si sono dovuti spostare sul binario 2, attendendo che il minuetto facesse manovra. Tutta la manovra è durata più di mezz'ora, facendo accumulare alle persone pesanti ritardi sul rientro a Biella. La Camera di Commercio di Biella organizza un seminario informativo dedicato alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale, aperto al pubblico e al privato. Martedì 19 marzo, alle ore 9, la Camera di Commercio di Biella organizza presso la sua sede, e in collaborazione con Ecoserved Scarl, un seminario informativo interamente dedicato alla compilazione della dichiarazione MUD per l'anno 2013. L'obiettivo è agevolare le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti, quelli che effettuano attività di raccolta e trasporto, recupero e smaltimento, nella compilazione del modulo MUD. Relatore del seminario sarà il tecnico ambientale Daniele Bucci, che affronterà le tematiche relative agli aspetti normativi, ai soggetti obbligati e ai contenuti della modulistica semplificata cartacea per i rifiuti speciali. Sarà dato inoltre spazio alla compilazione del software MUD 2013 e all'invio telematico e alla compilazione ed invio del modulo relativo ai rifiuti urbani da parte dei comuni. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione entro venerdì 15 marzo 2013. Presto il via allo sviluppo dell'e-commerce nell'economia biellese, corso di formazione gratuito sul commercio elettronico e le nuove tecnologie. Il 9 e 10 aprile a Biella si terrà il corso di formazione gratuito intitolato lo sviluppo dell'e-commerce nell'economia biellese. Nonostante la crisi economica, tal'iniziativa, finanziata dalla provincia di Biella, promossa dal polo di innovazione tessile Po-Intex e organizzata da Città Studibi e Banca Sella, nasce dal crescente interesse delle imprese locali per il commercio elettronico e le nuove tecnologie. Il piano formativo intende offrire le principali nozioni su questa nuova modalità di vendite, nonché le principali strategie di comunicazione e di marketing per quanto riguarda la comunicazione pubblicitaria, i social media e il posizionamento sui motori di ricerca. Verranno inoltre fornite le principali nozioni legali, fiscali e di logistica per lo sviluppo della propria impresa. Il corso, della durata di 16 ore, sarà aperto, oltre ai lavoratori, anche ai liberi professionisti, imprenditori e dirigenti. Gli alpini biellesi rinnovano il direttivo e si preparano alla donata nazionale in programma a Piacenza per il 10, 11 e 12 maggio. I delegati, ma anche tantissime penne nere, erano presenti all'Assemblea annuale degli Alpini che si è svolta nella sede di Via Ferruccio Nazionale a Biela. Un appuntamento importante con il Presidente Marco Fulcheri che nella sua relazione ha ricordato i numeri dell'Associazione. 5.452 sono i soci. Ed intanto, nell'ambito dell'Assemblea, è stato nominato per acclamazione il Presidente Artigliere Alpino Silvio Biasetti del gruppo Biella Centrovernato che il prossimo maggio taglierà il traguardo dei 100 anni. Sono stati anche eletti membri del direttivo in sostituzione di quelli che avevano terminato il mandato. Piero Coda Zabetta, Italo Moi, Carlo Maioli, Armando Recanzone e Giuliano Sella Camilla ed ancora dei dimissionari Mauro Falle e Roberto Bosi e dell'alpino Luigino Botta che, come si dice nel gergo alpino, è andato avanti. 6 intanto sono i nuovi capogruppo. Si tratta di Guido Boario per Andorno Micca Mialiano, Erberto Lanza per Benna, Giovanni De Rocco Brusnengo Curino, Marco Rigola Piazzo, Tiziano Sola per Valdengo ed ancora Daniele Gavazzi per Verrone. Ed intanto cresce l'attenzione per i prossimi due appuntamenti esterni che saranno la Dunata Nazionale e il Raduno Interregionale ai quali gli alpini biellesi si presenteranno con una nuova camicia di sezione. Gli alpini si stanno infatti già preparando per la Dunata di Piacenza del 10, 11 e 12 maggio. Ed era gremita la Basilica di San Sebastiano a Biella per il concerto che ha proposto Musiche di Verdi in occasione del Bicentenario della Morte. Un pubblico delle grandi occasioni ha gremito all'inverosimile la Basilica di San Sebastiano. Domenica pomeriggio ha avuto modo di assistere ad uno dei migliori concerti dell'orchestra filarmonica biellese magistralmente diretta dal maestro Emilio Straudo. È stato pertanto festeggiato in modo adeguato il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi attraverso un programma che ha spaziato sui brani più significativi del grande compositore. Assai apprezzate sono state pure le voci dei solisti Simona Zambruno, Rossella Paradiso e Pierantonio Rasoli nonché del coro Don Pietro Migazzi. E in conclusione la notizia di sport. Impegno notevole per Filippo Zanetta, il genasta della Marmora che è stato convocato ad un allenamento della Nazionale Giovanila a Milano. Con l'allenatore Dario Caldera era anche impegnato per la seconda prova del campionato di Serie B a Torino che ha visto Filippo e i suoi compagni Gabriele Businaro, Jacopo Vercellino, Luca Tarello, Federico Pozzato e Simone Scovazzo confermare la prestazione della prima prova del mese di febbraio migliorandosi di tre punti al corpo libero e laurearsi campioni regionali di Serie B vissando il risultato dello scorso anno. E con questo è tutto, grazie per averci seguito vi auguro una buona giornata. Grazie per aver guardato il video